Una bella notizia per i fan di Albano e Romina da quando è scoppiata la pandemia non si sono realizzati più concerti o manifestazioni del genere Solo da qualche tempo grazie ai vaccini si sono riaperti i teatri, cinema e la possibilità di riunire più persone in un palazzetto, arena o piazza In questi quasi due anni Albano e Romina Power non hanno più avuto modo di esibirsi insieme e tale circostanza ha dispiaciuto sia i diretti interessati, in particolare il 78enne Salentina, ma anche tutti i fan sparsi in tutto il mondo Ma nelle ultime ore sui canali social del cantautore di Cellino San Marco è arrivata una bellissima notizia Andiamo a vedere nel dettaglio di cosa si tratta Albano e Romina Power tornano a cantare insieme, l'annuncio nelle ultime ore è arrivato l'annuncio, attraverso Instagram, dove Albano Carrisi ha un grosso seguito Nel post pubblicato sul noto social network, si vede la locandina, in bianco e nero, che preannuncia il bellissimo evento che lo vedrà protagonista insieme all'ex moglie Romina Power Nella descrizione del post, il comunicato dice, ci vediamo a Biel il 21 undicesimi. Non mancate Si tratta di un concerto previsto per il mese di novembre che si svolgerà in Svizzera, a Biel Continua dopo il post, la reazione dei fan della storica copia E ovviamente i follower sono impazziti di gioia a tale informazione perché non vedono l'ora di poterli ammirare nuovamente sul palco insieme Tra i numerosi commenti ricevuti ce ne sono alcuni di utenti che chiedono, se mai, la storica coppia si esibirà nella loro città Ecco alcune reazioni dei follower di Instagram dei due artisti, yes yes e viva grazie Albano grazie Romina Finalmente vi rivedrò sul palco quest'anno Sono felicissima, che bellou, sono felicissima di rivedervi cantare insieme, sono felicissima di rivedervi insieme anche se solo artisticamente ma sono contenta lo stesso quando cantate insieme siete un vero spettacolo, la coppia più bella del mondo E tantissimi altri ancora Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti